E' meglio investire sul proprio sito web o sui portali immobiliari? Ciao, io sono Francesco Bersani e sono il fondatore di Web Marketing Immobiliare e oggi mettiamo a confronto questi due strumenti, dove da un lato abbiamo il proprio sito aziendale, il sito dell'agenzia, e dall'altro abbiamo il portale immobiliare, diciamo il sito dei clienti, fondamentalmente, quindi gestiti da il portale di turno e ovviamente hanno obiettivi, obiettivi diversi. Quindi li mettiamo a confronto e vediamo che cosa puoi fare con l'uno in contrapposizione all'altro. Allora, il sito web. Il sito web non nasce con traffico, è come dire, quando tu crei un nuovo sito web, un tuo sito web, è come dire avere questo sito web sulla collina, come se avessi la tua agenzia, non fosse su strada, ma sulla collina. Quindi non c'è un passaggio e devi fare tu in modo di portare la gente. Quindi questo è un punto negativo, solo se non investi nella creazione del traffico. Io ho parlato tante volte in questo canale di questo errore mastodontico enorme, cioè di fermarsi alla creazione del sito e poi non pensare a generare del traffico, un po' come comprare la macchina e poi non prendere la patente, non metterci la benzina, non pagare l'assicurazione per non farla camminare. È la stessa cosa, perché un sito senza traffico, fondamentalmente, è come un negozio senza clienti che entra. Invece i portali hanno il traffico, non perché gli cada per milagolo addosso, ma perché investono moltissimo nell'advertising, nella creazione di contenuti, addirittura investono in pubblicità, ma smide tradizionali, e quindi questo gli garantisce il traffico che i portali hanno. Sul tuo sito web, questo è un lato a favore del sito, hai zero concorrenza. Concorrenza, cioè sul tuo sito ci sono gli annunci tuoi, al massimo hai gli annunci del tuo circuito MLS, quindi comunque di gente con cui tu collabori. Sui portali hai solo concorrenti, quindi ci sono i tuoi annunci che sono in stretta competizione con quelli dei portali, quindi la situazione è completamente diversa. Discorso personalizzazione, customizzazione. Il tuo sito te lo puoi costruire di fatto come vuoi tu, quindi te lo puoi personalizzare, lo puoi integrare con il tuo gestionale, ci puoi fare quello che vuoi perché è casa tua dove tu decidi le regole. Sul portale chiaramente ti devi adattare ad una grafica che esiste già, a delle funzioni che esistono già e che tu non puoi toccare, non puoi modificare. Il sito, punto a favore del sito, ti permette di fare advertising, cioè tu se hai un sito web, o meglio in questo caso tornano utili anche delle landing page, in ogni caso devi avere qualcosa di tuo, un dominio dove puoi mettere queste landing page, uno spazio fisico, ti permette di fare advertising, cioè di usufruire di quella grande opportunità che è l'advertising online, di quella grande opportunità che sono le piattaforme pubblicitarie di Google e di Facebook, dove tu puoi intercettare il tuo pubblico, dove puoi quindi aumentare a dismisura il traffico di persone che altrimenti non atterrerebbero mai sul tuo sito web. Questa cosa non la puoi sfruttare sui portali, nel senso che sarebbe da pazzi acquistare pubblicità su queste piattaforme e reindirizzare le persone anziché sul tuo sito web sulla pagina del portale, perché stai facendo pubblicità gratis al portale che già paghi e poi rischi di fare pubblicità gratis anche ai tuoi concorrenti. Costi di mantenimento del tuo sito web sono molto bassi in confronto a quelli dei portali, dove ovviamente sono più alti anche perché in quell'abbonamento non stai pagando solo la presenza, ma stai pagando anche i contatti, il traffico che i portali ti mandano perché investono in advertising loro per te, ma ovviamente distribuiscono tutti gli abbonati, non mandano il traffico, sono tutti te e quindi sei in forte competizione. Sul tuo sito web di fatto decidi tu le regole, quindi questo è un vantaggio a favore del sito web, mentre sui portali non decidi le regole, molto spesso le subisci, quindi subisci l'aumento del prezzo, subisci la comparsa di una nuova funzione piuttosto che la scomparsa di una nuova funzione. Non è casa tua, è uno strumento di terzi e quindi le cose vanno così sempre, è ovvio. Quindi in un caso non dipendi da terzi e nell'altro dipendi da terzi. Hai controllo sui costi di manutenzione, quindi ci ricolleghiamo un po' a quello che abbiamo detto prima, mentre sui portali non hai alcun controllo, subisci purtroppo i costi di manutenzione e eventuali aumenti. Con un tuo sito web puoi fare dei progetti, ad esempio di retargeting o remarketing, nel senso che tu puoi mostrare pubblicità su persone che hanno visitato il tuo sito, poi sono uscite e navigando su Facebook, navigando su Instagram, navigando sui siti anche del circuito di Google, tu puoi continuare a mostrare la pubblicità. Questa è un'arma molto potente perché sappiamo benissimo che è difficile che qualcuno che entra per la prima volta sul tuo sito web ti contatti subito. Ha bisogno di più punti di contatto, ha bisogno di vederti più volte. E grazie a retargeting tu puoi riportare più volte le persone sul tuo sito fino a che queste persone compiano un'azione desiderata che potrebbe essere contattarti per informazioni su un immobile, contattarti per una valutazione gratuita, piuttosto che iscriversi alla tua newsletter. Quindi questa è un'arma molto potente di marketing perché lavora su un pubblico che comunque ti conosce, che comunque è già venuto a contatto con te, che comunque è più facile da convertire piuttosto di un pubblico completamente freddo che non ti ha mai visto prima. Sui portali questa cosa non la puoi fare per lo stesso motivo di prima, cioè tu non puoi fare advertising per portare le persone anche perché non ti è poi possibile tecnicamente fare questa cosa perché per fare retargeting devi installare un codice, ad esempio retargeting su Facebook, devi installare il tuo pixel di Facebook in quella pagina. Il portale ovviamente non ti permette di fare questa cosa, sul tuo sito questa cosa hai la libertà di farlo. Un altro dato molto importante ed è quello che guida il marketing sono i dati, cioè sul tuo sito tu riesci a vedere tutto quello che succede, quello che fanno le persone, quanto tempo stanno le persone, quali sono le pagine più visitate, quali sono le pagine e gli annunci che portano più contatti, il tasto di conversione, la provenienza, da dove ti arrivano principalmente i contatti, da dove principalmente ti arriva il traffico, quindi hai veramente una visione insieme molto molto dettagliata, mentre sui portali le statistiche sono limitate ovviamente a poche cose ed è giusto anche che sia così, ma da un lato poi il portale non condivide i numeri che tra virgolette non ti servono ma non ti condivide tutti i numeri e ti fa sapere solo quello diciamo che è strettamente collegato all'abbonamento che tu paghi e conoscere i dati, conoscere ad esempio quali sono le tipologie di immobili più visti, più cercati sul tuo sito web, ti permette di fare tutta una serie di ragionamenti che ti portano a sviluppare in modo migliore, diciamo ad esempio la tua ricerca, che ti portano a fare scelte migliori, più sensate appunto dettate da dei dati, dettate da dei numeri. E poi per concludere con un sito proprietario hai la possibilità di costruirti la tua piattaforma, qualcosa che ti rimane, qualcosa dove è vero che tu investi, dove è vero che magari è richiesto un investimento più grande per generare dei risultati rispetto al portale, ma è anche vero che ti permette appunto di costruire un tuo asset fondamentale dove lavori sul tuo brand e che continua a crescere questo asset e non ti molla perché smetti di pagare l'abbonamento, cioè costruisci un qualcosa che ti rimane, che rimane attaccato a te e quindi questo ha senso, ha senso fare un investimento di questo tipo. Mentre sul portale di fatto stai pagando una pubblicità che verrà interrotta quando smetterai di pagare, mentre un sito dove continua a investire a un certo punto incomincia a produrre i suoi frutti anche senza fare investimenti perché più lavori bene sul tuo sito, più questo sito si indicizza sui motori di ricerca o comunque più il tuo brand viene conosciuto e più le persone cercano il tuo sito e quindi questo genera per te alla fine traffico gratuito. Ecco, questo non avviene se non hai costruito qualcosa prima. Quindi le conclusioni quali sono? Non è scegliere fra il sito e il portale, puoi avere benissimo tutti e due. Il problema è scegliere solo il portale, cioè se fai la scelta del solo il portale perdi tutto quello che ti ho detto prima. L'ideale è avere tutte e due le cose perché da un lato hai dei contatti di persone che comunque vanno sui portali a cercare casa, dall'altro stai costruendo la tua piattaforma che ti permette di ottenere benefici anche nel medio e nel lungo termine. Se vuoi avere una visione di insieme più ampia e ancora non hai visto il mio webinar gratuito sul web marketing immobiliare perché qui abbiamo affrontato solo due aspetti sito e portali, in realtà ce ne sono tanti altri che dovresti conoscere per sfruttare al meglio l'online. Allora, in descrizione o nel primo commento trovi il link per registrarti al mio webinar totalmente gratuito. Per oggi è tutto. Ovviamente, prima di lasciarmi, se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti subito, schiaccia il pulsante rosso, attiva la campanella, attiva tutte le notifiche, dopo che hai fatto questo puoi mettere un bel like, un bel mi piace e poi finalmente possiamo salutarci. Per oggi è davvero tutto. Alla prossima. Un saluto da Francesco Bersani. Ciao!